Sodastream presenta ART Il nuovo gasatore dal raffinato Lucretro per gli amanti del design L'elegante leva offre un'esperienza unica di gasatura personalizzata Il nuovo cilindro CQC a incastro rapido si inserisce in modo facile e veloce Dotato di una bottiglia riutilizzabile e lavabile in lavastoviglie Autore dei sottotitoli a cura di QTSS